Ci sono oltre 220 miliardi di euro, bisogna spenderli bene e noi vogliamo farlo per rafforzare la coesione territoriale. Sappiamo tutti che l'investimento al sud del paese è un motore eccezionale per la ripresa, è un motore eccezionale per ridare giustizia sociale, è un motore eccezionale per guardare al futuro del nostro paese. Per la coesione territoriale ci sono quasi 2 miliardi di euro da investire, sia per valorizzare quei beni sottratti alla mafia che devono essere resi disponibili alla collettività, sia per le riqualificazioni urbane nelle quali c'è bisogno anche dell'investimento dei privati. La mano pubblica e quella privata si devono unire per costruire il futuro dell'Italia.